Un nuovo indirizzo di studio qui all'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Crotone che riguarda il mondo della pesca. Di che cosa si tratta? Allora quest'anno, anche se è l'ultimo giorno utile per le iscrizioni a questo istituto attraverso l'USR Calabria, è stata notificata l'autorizzazione che ha visto diversi attori interessati per l'indirizzo di produzioni ittiche e pesca commerciale. E' stato richiesto il parere del Comune di Crotone, della Provincia di Crotone, dell'Ufficio Scolastico Provinciale e dell'Ufficio Scolastico Regionale, valutando gli esiti positivi e anche per la coerenza con quelle che sono poi le aspirazioni del nostro territorio, ha autorizzato un nuovo indirizzo. Ciò significa che l'Istituto Ipsia, oltre al tradizionale meccanico ed elettronico indirizzo, oltre all'indirizzo odontotecnico e ottico, l'indirizzo moda e made in Italy, l'indirizzo sociosanitario, avrà dall'anno prossimo anche l'indirizzo pesca e produzioni ittiche. Che cosa consiste in realtà questo corso? Consiste nella possibilità di iniziare un percorso di studio che consentirà l'approfondimento e anche la conoscenza di competenze che saranno utili poi per figure professionali specifiche che possono operare nel settore della produzione ittica e anche della pesca commerciale. Quanto dura questo corso? Dura regolarmente cinque anni, consente l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie, come tutti i percorsi che sono presenti nell'Istituto Professionale per l'Industria dell'Artigianato, rientra in quella innovazione anche, ed è stato riconosciuto dalla riforma per i professionali, perché rientra in questa innovazione in quanto gli istituti professionali sono una grande risorsa per il territorio e per creare opportunità e collegamenti con quella che è la possibilità occupazionale e l'offerta occupazionale del territorio. È chiaro che sarà un percorso che nasce con piccoli passi, ma sicuramente ha alle spalle una grande tradizione che è la tradizione del MIUR e quindi i traguardi, gli obiettivi e le competenze, i cosiddetti programmi, saranno quelli che sono indicati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e quindi coerenti con quelle che sono le competenze riconosciute a livello europeo.